Un territorio come l'Abruzzo che vive soprattutto quello costiero ma anche quello montano di turismo, trovare questo disagio perenne sicuramente non è produttivo per la nostra regione. Torna l'incubo traffico tra Pineto e Città Sant'Angelo. I cantieri sulla A14 compromettono la viabilità a pedaggio e i tanti alla guida di auto e tir sono costretti a deviare sulla strada statale 16 paralizzando i comuni costieri. Smog, inquinamento acustico e interminabili code nelle ore di punta riportano alla mente l'emergenza traffico di un anno e mezzo fa dovuta al sequestro del viadotto Cerrano, situazione che aveva messo in ginocchio i comuni tra i due caselli autostradali. Ora si è nuovamente punto e a capo e con l'esodo estivo dei turisti la storia potrebbe ripetersi. I giorni fa avevamo detto che comunque le prenotazioni erano buone e tanti turisti volevano affollare il nostro territorio. Ovviamente adesso sono scoraggiati un pochino dalla situazione traffico sia autostradale che statale 16 in quanto in molti si buttano sulla statale trovando comunque un inferno anche qui. Intanto per un accordo tra regione e autostrade per l'Italia dal 9 luglio saranno bloccati i cantieri attualmente aperti in 5 gallerie. Non è certo quanto a lungo i lavori saranno sospesi, dovrebbero esserlo almeno fino al 14 luglio e solo di giorno. Lanci, capitanata dal sindaco di Terramo D'Alberto, ha sollecitato il ministro delle infrastrutture Giovannini. La situazione è insostenibile, ha detto l'associazione al ministro, bisogna trovare una soluzione e non è esclusa la nomina di un commissario. I sindaci sono preoccupati per questa situazione ma soprattutto perché capiamo che una località turistica dovrebbe offrire sicuramente un servizio migliore rispetto a queste ore di coda in macchina.